Inizia l'attività didattica nel nostro istituto. Quest'anno non in modo tradizionale, ma con laboratori che si svolgono prevalentemente all'aperto. Laboratori che consentono agli studenti di imparare a rapportarsi con il mondo agricolo e di dedicarsi alla trasformazione dei prodotti, con particolare attenzione a quelli viti vinicoli. Per noi il terremoto di maggio, che ha causato notevoli danni al nostro istituto, è divenuto occasione per immergerci totalmente nella didattica laboratoriale, in quanto non abbiamo a disposizione per il momento né aule, né banchi, né lavagne, né cattedre. A questi si sono sostituiti i filari delle viti, la rassegna di frutti dimenticati e la loro riscoperta, grazie ad un'esposizione, l'esperienza della pigiatura, la cottura del mosto, l'assaggio dei prodotti di eccellenza delle nostre terre. L'istituto Calvi è tradizionalmente radicato su quattro province, a studenti che provengono da Modena, Ferrara, Bologna e Magno. Iniziare l'attività didattica il 17 settembre non è stato assolutamente semplice. La scuola non può più contare sui suoi spazi funzionali, ma grazie al sostegno delle istituzioni, dei privati e alla tenacia del personale della scuola, siamo riusciti ad assicurare la ripresa delle attività didattiche, come previsto dalla disposizione regionale. Nonostante tutto, ci siamo! Grazie a tutti! Grazie a tutti!